Simone, ancora qui a Wellness Rimini, quindi ti piace questa fiera? Ciao a tutti, ormai è già il secondo anno che vengo e per me è sempre un onore venire qua, quindi sono molto contento e ci sono ritornato molto volentieri. L'anno scorso affiancavo Fede, quest'anno affianco la Tania, due grandi campionesse, quindi ancora di più un orgoglio e spero anche che porti bene anche per questa stagione, quindi vedremo dai. E tuoi obiettivi? Obiettivi di portare qualcosina a casa dagli europei, di metallose speriamo che luccichi, però io farò il massimo, se non viene Amen, se viene bene, io comunque darò il massimo anyway. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti